Grande Fratello 2023. La richiesta agli inquilini della casa. Eventi che hanno decisamente scosso gli animi dei concorrenti. Quelli avvenuti di recente e in particolar modo dopo l'uscita di scena di Beatrice Luzzi che ha ricevuto la dolorosa notizia del lutto in famiglia. Assenza di empatia e una cascata di commenti e tweet sulla testa dei GFini, messi in guardia anche dagli autori del programma. La strana richiesta del GF agli inquilini fa il giro del web. A essere chiamata in confessionale Anita Oliveri che ha poi riportato quanto le sarebbe stato riferito. Mi hanno chiesto in confessionale di tenere un profilo basso. Fuori quattro cretini stanno facendo casino? È stata la rivelazione di Anita che si è dunque rivolta agli inquilini spiegando di mantenere un profilo basso alla luce dell'indignazione di alcuni fan. Ma come risponderanno a loro volta gli utenti dopo l'espressione, cretini, di Anita. Al contempo, sembra proprio che le richieste non siano finite qui. Sarebbe stato chiesto agli inquilini della casa di preparare le proprie valigie in vista della prossima diretta TV. Nelle ultime ore infatti il dibattito si è acceso tra Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele. Sarebbe stato Garibaldi a utilizzare una frase infelice sui gay che ha dunque dato il via al botta e risposta tra i presenti. A prendere le difese di Garibaldi è stata Anita che nel giro di poco si è trovata contro anche Rosanna Fratello e Sergio Dotta.